Parliamo oggi di un grande, grandissimo autore del Novecento, Dino Buzzati, noto soprattutto per il suo romanzo Il deserto dei tartari, su un uomo che viene mandato in un forte alle soglie di un deserto dal quale dovrebbero arrivare i tartari, che però non arrivano mai, ma è eccezionale soprattutto per i suoi racconti che quando ero molto più giovane mi hanno veramente entusiasmato, alcuni dei quali Il Colombre, Sette Piani, Qualcosa Era Successo, sono veramente straordinari e sono predecessori di un tipo di racconto surreale e onirico che ha dato vita, che so, anche alle serie tv come Black Mirror alla fine, molti, 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 molti anni prima. Dino Buzzati nasce a San Pellegrino, nei presidi Belluno, il 16 ottobre 1906. Figlio di Giulio Cesare Buzzati, giurista e docente universitario, e di Alba Mantovani. Sorella di Dino Mantovani, uno scrittore conosciuto e apprezzato di fine ottocento, oggi praticamente dimenticato. Dino Buzzati comunque appartiene a un ambiente borghese benestante, cioè ai piccioli, in pratica. La famiglia risiede stabilmente a Milano, dove il padre insegna la Bocconi, figurati. Oltre a quella di Pavia, cioè insegna anche all'Università di Pavia, ma trascorre tutte le vacanze estive nella villa di San Pellegrino, che è zona di Bergamo, più o meno. I due monti, la città milanese e la montagna bellunese, ritorneranno frequentemente nella sua narrativa. Infatti, nella villa di San Pellegrino, che Buzzati scopre e sviluppa il proprio universo interiore, e la capacità immaginifica, alimentata dal rapporto con la natura, e dai tomi della fornitissima biblioteca di famiglia. Ricordo un po' il Giacomo Leopardi, solo che Buzzati non si è mai ingobbito. E non ha mai scritto poesie. È un autore soprattutto di grandi racconti e di qualche romanzo famoso, che però, secondo me, non è all'altezza dei racconti. Durante le lunghe estati montanare, lo scrittore crea un legame incindibile con le montagne, che lo accompagnerà tutta la vita. Il piccolo Buzzati è un ragazzino dotato di una sensibilità spiccatissima, che esprime nell'amore per la musica e per le arti figurative. Frequenta il liceo milanese Parini, figlio di un professore Labbocconi, figurate. Viene indirizzato verso la facoltà di giurisprudenza per volere del padre, cosa comune a molti scrittori, il fatto che i genitori vogliono farli diventare giudici o avvocati. Lui si laurea nel 1928 con una tesi sulla natura giuridica del concordato Stato-Chiesa, che c'era stato poco prima tra Mussolini e il Papa. La sua vera vocazione è di carattere letterario, quindi nel 1928 ancora studente universitario comincia a lavorare al Corriere della Sera. Prima cronista, poi redattore inviato. Collaborerà per sempre, fino alla sua morte, con il Corriere della Sera, un po' come Maldini nel Milano, non cambierà mai casacca. Alternerà la scrittura giornalistica a quella romanzesca. Nel 1933, quindi siamo durante il fascismo, vede la stampa il suo primo romanzo, Barnabo delle Montagne, su cui Buzzati lavora sin dal 1930. Ci sarà un seguito di Barnabo delle Montagne, che è Il segreto del Bosco Vecchio, che uscirà nel 1935. entrambi diventeranno dei film, tra cui Il segreto del Bosco Vecchio di Erman Olmi, molto bello, nessuno dei due è facile, Barnabo delle Montagne di Mario Brenta, oppure Il segreto del Bosco Vecchio di Erman Olmi. Erman Olmi è un grandissimo regista, non facile, ma un grandissimo regista. Questo è anche il periodo in cui, per la collaborazione al periodico La Lettura, comincia a scrivere dei racconti brevi, che sono veramente il suo quid, poi vedrete quando ne leggerete qualcuno. Diventerà scrittore famosissimo, grazie a questi racconti brevi, che nella letteratura italiana, sappiamo, non si vendono. Gli editori sono resi a pubblicare, ma lui, scrivendo per questo giornale, li pubblicava sul giornale, poi li ha raccolti. Sette Piani, è famosissimo, chi vuole recuperare questo Sette Piani in forma cinematografica, c'è il film Il fischio al naso con Ugo Tognazzi, i Sette Messaggeri, 1939, eppure battono alla porta, 1940, per la loro commissione di elementi realistici ed elementi fantastici, e per un forte senso di mistero inquietante. Nel 1939 parte per l'Etiopia, inviato del Corriere, e da questa esperienza nasce il romanzo, che lo porta verso il successo, e lo trasforma in un autore di fame internazionale, il deserto dei Tartari, il cui titolo originale era La Fortezza, viene pubblicato da Rizzoli nel 1940. Continua la collaborazione al Corriere, ma rimane abbastanza defilato riguardo agli eventi della guerra e della liberazione. nel 1945 pubblica per bambini, per ragazzi, bambini proprio, la famosa invasione degli orsi in Sicilia, viene pubblicata prima sul Corriere dei Piccoli, che era un giornale famosissimo per bambini, e poi raccolta in volume. Il deserto dei Tartari riconosce molte ripubblicazioni, molte traduzioni all'estero, e prosegue nella scrittura di racconti tra fantastico e surreale, alcuni sono raccolti in paura alla scala, poi ha fatto varie raccolte di racconti, se li trovate anche sulle bancarelle, cioè può essere una scoperta straordinaria per voi, Dino Buzzati. Nel 1949 è inviato al Giro d'Italia, poi vice redattore della Domenica del Corriere, che era sempre Corriere della Sera, non è che lascia il Corriere della Sera, era un settimanale del Corriere della Sera. Nel corso degli anni 50 si avvicina al teatro e scrive alcuni testi per il teatro. Nel 1958 vince il premio Strega con la raccolta 60 racconti, forse uno dei pochissimi, pochissimi casi in cui una raccolta di racconti vince un premio Strega. Nel 1960 scrive Il Grande Ritratto, poi scriverà nel 63 Un Amore, che sono dei romanzi quasi rosa, dove si avvicina un po' ai gusti dell'elettrici femmine. Un Amore, soprattutto, è un romanzo di natura autobiografica sul rapporto con una donna. Nel 60 sono stati pubblicati altri libri di racconti, Il Colombre, altri 50 racconti, poi ha scritto delle poesie che non saranno... cioè, dimenticati, chi se le ricorda più le poesie di Buzzati. La stessa cosa, la sua attività di pittore, perché provava anche a fare il pittore, abbastanza dimenticata, anche se lui aveva una grande passione in questo. Comunque nel 71 racchiude parte della sua produzione, racconti e del Zeviri, che sarebbero dei saggi di varie attualità, che so, il termosifone gocciola, perché gocciola... sono, diciamo, dei testi poetici gli elzeviri, non si usano più, chiaramente, non si fanno più. Nella raccolta di Elzeviri fu Notti difficili, poi morì nel 1972. E spero che Buzzati possa entrarvi dentro, soprattutto per i racconti, o il racconto, il romanzo, voi leggerete di vostra scelta, o per ciò che vi proporrò io, ma comunque è un autore veramente straordinario. Grazie a tutti. Grazie a tutti.